Il virus continua a circolare dappertutto, si lascia piegare ma non si lascia sconfiggere. È per questo che anche tra i nostri esperti c'è forte preoccupazione che la curva dei contagi possa subire un'impennata nel periodo natalizio. Dobbiamo quindi intervenire, e vi assicuro che non è una decisione facile, è una decisione sofferta, per rafforzare il regime di misure che sono necessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarci meglio anche in vista della ripresa più generale delle attività che avverrà a gennaio.